Uriel Vallasciani, responsabile del settore giovanile. Mister, facciamo un bilancio della stagione 2023-2024 per quello che è stato il settore giovanile. È stato un anno di tanta fatica, difficile, però con tante satisfazioni. Abbiamo messo tanto lavoro di tutti quanti, lo staff, la società. Per quello voglio ringraziare a tutte le famiglie che ci hanno dato fiducia quest'anno, che hanno stato al fianco nostro e dirle che continueremo a lavorare per migliorarci ancora. Già stiamo lavorando la nuova stagione 2024-2025, la quale fra poco faremo delle riunioni con tutte le famiglie per presentare la continuità del progetto questo che ha cominciato l'anno scorso con la fiducia che ci ha dato la società, a me e a tutto lo staff, per lavorare con libertà. Niente, andiamo avanti. Penso che è stato un anno pieno di satisfazione. Abbiamo commesso degli errori che normalmente si commette a chi si mette in gioco in questa attività. Per la stazione prossima cercheremo sempre di migliorarci e di continuare con questo processo formativo per i ragazzi e per tutta la società di Porto d'Antepidio. Com'è questo percorso di crescita? Che li realizziamo? Siamo, penso che, al primo gradino. Ancora dobbiamo lavorare tanto, migliorarci noi come staff e anche con i ragazzi dobbiamo continuare a lavorare, a fare arrivare nuove figure che servono per questo processo formativo. Ti dico che sempre la formazione dei ragazzi non si finisce mai di imparare, quindi anche un apprendimento per noi, costante, formazione costante, mia e delle staff e degli allenatori che arriveranno qui quest'anno, di quelli che già ci sono con noi, continueranno a formarsi e andare alla ricerca sempre di nuove proposte positive. Certamente non è facile quando uno parla di formazione, come l'ho detto l'anno scorso, perché il processo è lungo e a volte la gente non ha tempo di aspettare e vuole vedere i risultati velocemente. Quindi, niente, avere pazienza, lavorare giorno per giorno, essere un attrattivo per i ragazzi, venire al campo a giocare a calcio. Continuiamo con il progetto che abbiamo proposto l'anno scorso e andiamo avanti, non ci fermiamo, vediamo adesso come si finirà questa stagione e tireremo le somme, però penso che da parte nostra, della società, Atletico por Sant'Elpidio e di tutti gli staff, serve un ringraziamento a tutte queste famiglie che ci hanno dato fiducia quest'anno e portando i bambini, i ragazzi, qui con noi. Quello che voglio dire è che stiamo qui, continuiamo a lavorare e speriamo un altro anno che si avvicini a noi e andiamo avanti con fiducia e tra un po' di tempo vediamo se il lavoro nostro che abbiamo fatto, che abbiamo proposto, è stato satisfattorio per tutti. Grazie Uriel Balasciani, responsabile del settore giovanile. Grazie a voi.